allora buongiorno etna polis oggi festa del papà e abbiamo questo bel bimbo che si chiama davide auguri a tutti i papà del mondo facci vedere come fa papà cosa dice papà di solito posa il telefono che dobbiamo mangiare mi farà arrabbiare caro papà sei sempre nel mio cuore ti voglio bene a tutte le ore sassomigliato a papà hai capito che hai capito o hai capito che non hai capito e questa è la frase tipica di papà cosa vi dice sempre papà la sai e la dilla al microfono vai di pregare per sia dedicata a papà papà dammi la mano grande e forte mi sento con te sono felice se tu sei con me lo conoscete il mio papà ve lo presento eccolo qua ma non è vero che è un tesoro un paparino tutto d'oro se fa il severo quando si arrabbia mi dice a letto io l'abbraccio e gli do un bracetto a questo punto molla diventa dolce di pasta frolla fermati papà auguri papà da spiderman che bellini auguri papà auguri a tutti i papà e un bocca al lupo auguri a mio padre e a tutti i papà che rappresentano una figura speciale per la famiglia e anche a tutti i papà che non ci sono più che ci guardano da lassù il papà e il papà lo possiamo dire auguri a tutti i papà del mondo ciao grazie auguri auguri papà auguri papà auguri papà auguri papà Grazie a tutti.